ciao a tutti benvenuti al mio canale grazie essere qui con me ancora un'altra volta oggi in questo video vi faccio vedere il lago di garda che bellissimo allora andiamo sì questa è la bellissima italia noi viviamo qui al norte dove c'è verona questo è il lago di garda questa è verona dalla si se lasciamo la macchina e cammineremo fino vartolino e dopo torneremo alla sisse una bella passeggiata siamo al lago di garda e questo siamo arrivati al in la sisse guardate il castello che bello che è siamo in la sisse e questo è il castello del lago di garda uno dei castelli del lago di garda lo che ti dice siamo al lago di garda come ben sapete voi tutti italiani che è il lago più grande in Italia ed è bellissimo qua è bellissimo stiamo facendo un bel diretto oggi che c'è una bellissima giornata ciao ecco qui sta il lago di garda chiamo il mio esponso tan bello this is the lake it's very nice here you see E questo traghetto va dalla parte di Verona alla sponda veronese e la sponda bresciana. E qui ci sono tante barche perché vengono a trovare, a visitare il lago de Garda tutti i tedeschi. Ecco, abbiamo trovato una spiaghetta qua. Però non è tanto pulita l'acqua. Qua non è tanto pulita l'acqua, però c'è la spiaghetta. Di là la stessa è rapidulita. Ecco qua, c'è la spiaggia, ci sono già tutti. E qui abbiamo già un po' più di gente in giro. Con la mascherina tutti in braccio, col colo o in tasca. Questo è Cisano, un piccolo paesino qui. Molto bello. Questo è Cisano, c'è un pobolito qui vicino. E ci sono in medio, tra la Ciscia e Bardolino. La Ciscia e Bardolino. Ora siamo in Ciscia. No, Ciscia. 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 Ci sono un modello med Richard P monster di Tòchi T sozusagen. Questa è la velocità. Vi solito per l'acqua avv destinations. Allora, conquista in Bas- gara. E' molto bello, molto bello E questo è già Bardolino E c'è il barco dietro Non ti nascondi amore Ecco me Vedete i pavoli Vedete il bello signore E' molto bello Che bello che hanno decorato anche i fiori Con i fiori Questa è la barca Questo è il porto di Bardolino, finalmente Siamo un po' indecisi di che cosa Che gelato prendere Sono delle cose buonissime di gelato Guardate la faccia felice del mio marito Guardatelo Stava mangiando un gelato al babà E guardate il mio frutto di bosco Yami yami Mielato ricco italiano De frutto di bosco A Bardolino E' bello E' bello E' bello Adesso stiamo andando di ritorno verso la Sise, vengo a prendere la macchina, ci mancano più o meno un'ora e mezza di camminata. E' una buona cittola, ecco, buona. E' bella! E' bella! Oh, cagliolino! E' bella! E' bella! E' bella! Oh la la! E' bella! E' bella! E singers sta andando, ed è freddio. Per ultimo domanda! E' bella! Guardata la proprima e la mia caglia Ma che yes he got it that's good strong vein yeah good good the sun burns so we are putting another car with a towel bathed bathed now we are back to verona after we made a half hour and a half hour we are going now we have also done the return to bed we are very tired and we have found the traffic right? thank you for being with me if you liked it please give me a like and subscribe to my channel see you next time God bless you bye